Ieri mattina su iniziativa del sindaco di Eboli Massimo Cariello, in collaborazione con il consigliere delegato alla sicurezza e alle periferie Giuseppe Labrocca, l'assessore alle politiche sociali Carmine Busillo, che ha coinvolto nell'iniziativa anche il centro SPRAR, i vigili urbani e la società Security Point, la costa ebolitana è stata ripulita dai rifiuti abbandonati. L'intervento è stato messo in campo al fine di sanzionare i comportamenti illeciti che danneggiano l'ambiente. 50 in tutto i sacchi di rifiuti riempiti nel corso dell'attività. Questa ulteriore azione, afferma il sindaco Cariello, segnala l'attenzione dell'amministrazione per fascia costiera, residenti e operatori turistici.